Ciao amici di Mr.Cadget, è con un grandissimo piacere che finalmente vi presento il nuovo LG G7 Questo è uno dei prodotti più attesi in assoluto del mercato, almeno dei super appassionati, delle ultime settimane Allora, apriamo senza indugio la confezione per vedere quello che ci offre Confezione tra l'altro che trovate con il prezzo ufficiale italiano di 849 euro ormai nei negozi in questi giorni Ma attenzione perché online si trova già lo stesso prodotto al prezzo di 719 euro Vabbè, torneremo magari a parlare in un altro momento Intanto vi dico, questo il telefono, bellissima questa colorazione che se non vado male, se non vado errato viene chiamata Moroccan Blue Davvero stupenda, il telefono lo guardiamo dopo, guardiamo dentro la confezione Una pezzetta per la pulizia, perché insomma devo dire che è una bella calamita per le ditate Poi quello che è il piripacchiolo per aprire il cassettino Il caricatore con Quick Charge 3.0 del telefono E infine il cavo, quanto trionfo di bianco Per il cavo con il connettore che sto cercando di raggiungere Adesso spaccherò tutto nel tentativo di farlo Eccolo qua, il connettore è USB Type C Da sottolineare anche il fatto che nella confezione del telefono C'è questo scatolino che mostro, al cui interno ci sono le cuffie Che devo dire sono di buona qualità Supportate anche dal fatto, anche in questo caso l'apertura è un po' difficoltosa Vedete una cuffia con strutturazione molto morbida Un bel aspetto, il marchio LG nella parte esterna dell'auricolare E supportate, dicevo, dal fatto che ci sia un quad DAC Quindi un convertitore dall'audio digitale all'audio analogico Veramente, veramente notevole Con una qualità dell'audio Che probabilmente è uno degli elementi più interessanti di LG G7 Vediamo un po' da vicino anche il telefono Con un display 19,5 noni Qua è una battaglia adesso a chi aggiunge un pezzettino in più ai 18 noni Sulla parte posteriore il sensore delle impronte digitali Con la doppia fotocamera Quindi il semaforino, come qualcuno lo chiama Sensore delle impronte digitali E poi anche il puntatore laser Che rimane una delle caratteristiche di questo smartphone Entreremo poi nel dettaglio della fotocamera per vedere esattamente come è fatta Un lato con il pulsante di accensione Vi ricordate in passato il sensore delle impronte digitali era anche pulsante di accensione Invece adesso il pulsante è stato posto qui sul lato Sull'altro lato controllo del volume Per noi si chiama sempre volume rocker E poi un altro pulsante che invece è il pulsante per l'attivazione dell'assistente di Google Qualcuno potrebbe pensare che è inutile perché ha sperimentato quello sul Galaxy S9 Che con Bixby non è molto funzionale E invece vi devo dire che il pulsante di attivazione dell'assistente virtuale di Google è veramente notevole Sempre guardando il telefono nella parte frontale poi c'è la fotocamera migliorata da 8 megapixel Vediamo un po' più da vicino anche il telefono così come funziona con le sue caratteristiche base Allora abbiamo detto display 19,5 noni con definizione super elevata Parliamo di 1440x3120 pixel La diagonale è da 6,1 pollici Questo è un display QHD Plus È un display tra l'altro IPS LCD con una leggibilità secondo me fenomenale Attenzione a questo Quando io tolgo l'aumento della luminosità posso arrivare addirittura anche al super bright display Che arriva ad una luminosità incredibile di 1000 nits Allora non è la prima volta che esiste un telefono con una luminosità che arriva a questo livello Ma gli altri telefoni non permettevano di forzare una visibilità così alta Qui vedete essenzialmente che potete con questo pulsante aumentare ulteriormente la luminosità esterna del display E arrivare veramente ad una leggibilità che ha dell'incredibile Purtroppo però questa luminosità così forte un po' si paga Perché qui c'è una batteria da 3000 mAh E io purtroppo sono riuscito in queste ore di prova ad arrivare solo a 4 ore di schermo acceso Prima di aver bisogno della ricarica È veramente un po' poco Per il resto guardiamo un attimo l'interfaccia C'è la personalizzazione abituale di LG Che non è esattamente una delle mie preferite Ma bisogna onestamente ammettere che questo display Scusate che questo telefono ha una quantità di funzionalità disponibili che hanno dell'incredibile Vediamo un po' da vicino che cosa si può fare Ad esempio un pannello di condivisione per utilizzare la condivisione Google Share E poi ancora la possibilità di utilizzare il server multimediale LG Airdrive Guardate questo è molto interessante perché Airdrive vuol dire che potete condividere il vostro contenuto del telefono Con un computer passando essenzialmente dal collegamento con la rete web Questo vi toglie il mal di testa ad esempio se avete Android con un computer Mac Non solo avete il sistema Mirror Link Quindi alcune automobili non hanno ancora né Android Auto né CarPlay Ma hanno comunque Mirror Link a disposizione E questo può essere molto comodo Mirror Link può essere comodo anche per la condivisione dei contenuti in mille altre situazioni Il suono Abbiamo detto che quando si agganciano le cuffie Lo vedete adesso è tutto grigio perché non è attivo il software Quando si attaccano le cuffie c'è la possibilità di attivare il Quad DAC Hi-Fi Che migliora l'audio in modo veramente essenziale C'è anche la possibilità di attivare l'allerta flash per le chiamate in arrivo Di misurare la potenza della vibrazione Questo è uno dei pochi telefoni Android con un motore di vibrazione veramente incredibile E poi via via vedete andare a controllare addirittura tutte le impostazioni Compresa quella ad esempio del vibrazione Suono quando si tocca il display Allora torno a proposito di display a un dettaglio Perché sono entrato proprio nella voce del menu da cui gestite il display Qui si può scegliere come utilizzare lo sfondo Che tipo di scorrimento Che tipo di griglia volete delle vostre icone Potete scegliere se avere lo scorrimento continuo Vedete una personalizzazione veramente grossissima Potete scegliere i temi Ne potete anche scaricare alcuni Non sono bellissimi però purtroppo E poi il modo in cui selezionate come volete il vostro second screen Questa parte superiore Quella dove c'è il cosiddetto notch Che può essere utilizzata in questo modo Ma anche colorata Volendo vedete Potete separare questa parte della barra superiore delle notifiche Oppure mettere il notch Che come vedete vi permette di avere l'effetto Che è simile a quello di molti altri telefoni sul mercato Attenzione anche a questa cosa Potete addirittura arrotondare il display se volete Oppure sceglierlo in questa forma più squadrata È una delle tantissime possibilità che avete Come detto di personalizzazione Avete la personalizzazione per ogni singola applicazione Potete scegliere ad esempio di abbassare la risoluzione dello schermo Potete scegliere la tonalità anche di colore dello schermo Potete mettere un sistema di affaticamento per la leggibilità Perché sapete che con una definizione così elevata Poi diventa tutto molto piccolo Quindi può essere più difficile leggere La luminosità con il controllo della luminosità La possibilità di fare la vesta mini Quindi con un arco, con un movimento sul telefono Sulla barra, sulla dock del telefono Essenzialmente riducete la dimensione del display In modo tale che possa essere utilizzabile con una mano sola Vado ancora oltre Perché davvero le personalizzazioni di questo telefono sono infinite Potete ad esempio utilizzare la floating bar Ve la mostro qui Scusate Adesso non so perché mi fa vedere questo tipo di impostazione Però vedete la floating bar può essere aperta E poi ci sono delle opzioni Che attraverso il menu che abbiamo visto prima Potete metterlo dove volete Sul display E con le opzioni che avete visto prima Del nostro Sì ok Multi window Ciao Con delle impostazioni Vedete potete scegliere essenzialmente Come utilizzare la floating bar Quindi che tipo di comandi mettere sulla floating bar E poi ancora Context awareness Il fatto che Quando voi spostate il telefono Lo mettete in alcuni luoghi Che possono essere la casa e l'ufficio Il telefono automaticamente cambia La modalità di gestione dell'audio La vibrazione Il tipo di suoneria Il volume anche Della suoneria E poi ancora potete scegliere I tasti di accesso rapido Quindi ad esempio l'apertura della fotocamera Premendo due volte il tasto di accensione Insomma avete un po' di possibilità All'interno del vostro telefono Per gestire l'utilizzo dei tasti fisici In un modo molto molto semplice Ancora vedete toc toc Quindi la possibilità di attivare il display Semplicemente con un doppio tocco Quando fate questo tipo di movimento sul display Potete attivare il display Oppure spegnerlo Insomma tantissimi livelli di personalizzazione Di questo LG G7 Che pur non avendo un'interfaccia bellissima Da vedere ha però insomma Una profondità di personalizzazione del telefono Veramente eccellente Diamo un occhio alla fotocamera Doppia fotocamera Abbiamo già detto che qui dietro ci sono Due sensori da 16 megapixel Uno con un'apertura di 77 gradi Con scusate con un angolo Un'angolazione di 77 gradi E un'apertura 1.6 L'altro invece con un angolo di 107 gradi E con un'apertura 1.9 Quindi 16 più 16 megapixel Per la fotocamera posteriore Bisogna dire che questa è una fotocamera Con la stabilizzazione ottica Con il puntatore laser Può girare filmati 4K Con 30 frame al secondo E i filmati possono avere anche Lo standard HDR Quando voi guardate la fotocamera da vicino Avete queste opzioni Ritratto, iCam oppure Google Lens Con Google Lens teoricamente Dovreste riuscire a riconoscere gli oggetti Con la modalità ritratto Utilizzare la profondità di campo Per sfuocare quello che sta intorno al soggetto E con le iCam O iCam, chiamatela come volete Invece avere un sistema Per cui voi personalizzate il vostro scatto Io adesso non so Mettendo ad esempio Una matita davanti Se si è in grado di riconoscere la matita Ma essenzialmente la iCam È in grado di riconoscere il contesto In cui deve scattare E adattare i parametri fotografici Diciamo insomma che a me non piace tantissimo Intanto vi faccio vedere cosa vuol dire Anche il grand'angolo Rispetto quindi 103 gradi contro i 77 Sono un po' meno Dell'apertura che offriva il G6 Però secondo me il grand'angolo È sempre una funzionalità eccezionale E vedete che la camera intelligente Le iCam funziona anche con il grand'angolo Tempo di scatto Molto veloce Come sempre Menu contestuale per la condivisione Dei vostri contenuti Vi faccio vedere con un altro scatto Appena scattate Vedete vi propone la condivisione Su uno dei sistemi Che sono disponibili Con questa freccetta Invece poi raggiungete Quelli che sono gli altri Sistemi di condivisione Che sono utilizzabili La fotocamera frontale invece Ha una qualità Da 8 megapixel In grado di fare filmati A 1080 pixel Vedete queste sono le diverse modalità Della fotocamera La modalità manuale Per il controllo totale Di tutti i parametri Della fotocamera E poi ancora potete fare Cine video Quindi utilizzare gli effetti Come era sul V30 Quindi per una qualità Della ripresa video Molto avanzata E guardate che questa è una delle cose Più carine Secondo me Di LG Per l'utilizzo Della fotocamera E poi ancora La modalità di ripresa Del cibo Lo slow motion E poi Questa modalità invece Che vi permette Di riprendere Delle GIF O GIF Chiamatelo un po' come volete Semplicemente Utilizzando L'otturatore della fotocamera Utilizzando come se fosse un video In realtà Vengono riprese Molte foto in sequenza Che diventano una GIF Rimetto il telefono Qui in posizione Per vedere un po' Insomma Quelli che sono Tutti gli aspetti Del funzionamento Io sottolino Ad esempio Che La luminosità Di questo display È notevole E anche La definizione Veramente Molto interessante Rispetto A LG V30 Qui stiamo andando Veramente ad un Livello qualitativo Secondo me Di gran lunga superiore 4 GB O 6 GB Di RAM A seconda Dei paesi In cui è Distribuito 64 128 GB La memoria Una scheda Micro SD Che può arrivare Fino a 400 GB Di estensione Solo in alcuni paesi Arriverà invece Il formato Dual SIM Che quindi Permetterà l'utilizzo Della doppia scheda Uno dei dettagli Su cui si è spinto Molto È l'audio L'audio Che ha una caratteristica Molto particolare Ha fatto il giro Di tutti i social Ma anche sui giornali Sentite il volume Mostruoso Allora in realtà L'audio esce solo Nella parte inferiore Del telefono Parte inferiore Che tra l'altro Ecco vi mostro In questo caso Con USB Type-C Con l'attacco Per le cuffie Da 3 mm e mezzo E proprio con L'altoparlante Nonostante Il telefono Emetta il suono Solo nella parte Inferiore Bisogna dire Che il volume È mostruoso La cosa un po' curiosa È che ascoltando L'audio La parte posteriore Vibra tantissimo Ha una vibrazione Elevatissima Perché teoricamente Dovrebbe sfruttare Anche le superfici Su cui viene appoggiata Per migliorare La qualità complessiva L'audio Abbiamo detto Bottone dedicato Per l'assistente virtuale Controllo del volume Sistema di accensione Batteria da 3000 mAh Purtroppo come detto Con solo 4 ore Di schermo acceso Almeno nella mia esperienza Di questi giorni La ricarica rapida Con Quick Charge 3.0 All'interno di questo smartphone C'è la radio FM C'è il Bluetooth 5.0 Con la PTX HD Il suono come detto Con l'iFi Quad DAC Ha anche lo standard DTS-X Quindi veramente C'è ogni dotazione Possibile e immaginabile Il telefono è leggero 162 grammi Con delle dimensioni Che tutto sommato Sono più che accettabili 153,2 mm 7,9 mm di spessore E 71,9 mm Invece per la larghezza C'è la USB Ovviamente Type-C Che è una USB 3.1 E questo secondo me È un aspetto positivo Si può sbloccare Con il viso E con addirittura La voce Oltre che con L'impronta digitale Bisogna dire che Il sensore dell'impronta digitale Non è velocissimo Questo è un aspetto Importante Insomma Io trovo Che questo oggetto Sia molto bello Il fatto che sia Così leggero Così sottile Lo rende Molto maneggevole La fotocamera Mi Devo dire che funziona Molto meglio Quando non usate L'intelligenza Artificiale Purtroppo Io sottolineo Ancora una volta Credo che il peccato Mortale di questo smartphone Sia la durata Della batteria Nel complesso Però è un prodotto A mio avviso Molto bello Forse Il vero peccato Mortale È il fatto Che Insomma Si è in vendita 849 euro Ufficialmente Si trovi già A 719 Si rientra Un po' Nel classico Balletto Dei prezzi Di LG Che purtroppo A volte Scoraggia un po' Quelli che Acquistano Il telefono Per primi Ci sono anche Delle proposte Preannunciate Non ancora ufficiali Di acquisto Anche con alcuni operatori Con dei prezzi Impossibili Se fosse vero Quello che è stato Annunciato Che arriveranno A delle proposte Fortissime Con alcuni operatori Allora Questo è veramente Un prodotto Da tenere In considerazione Un dettaglio Che molti di voi Mi chiedono E poi veramente Vi saluto E vi lascio È il fatto Della SAR Allora 0,24 alla testa E 1,47 al corpo Questo Il valore SAR La ricezione È nella norma L'audio In capsula È Più che buono La ricezione Wi-Fi È anche Secondo me Molto valida Se ho dimenticato Qualche cosa Può essere Nessuno È Perfetto Sono a vostra disposizione Io voglio sapere Che cosa Pensate Vi piace?